Ciao amici! Oggi vi mostriamo che cosa va di moda nell'istituto Pini! Eccolo qui! Il nuovo club ippico del Pini, una nuova esperienza per i ragazzi e le ragazze del Pini! Guarda, te lo puoi portare dove vuoi e i pezzi non cadono, rimangono dentro, così non li perdi! Sai già come funziona! Lo apre, ci giochi, lo chiudi e riordini! E sai una cosa? Guarda un po' chi c'è nel club ippico! La nostra amica Michelle, ma vestita da Fantina, con gli scarponcini per montare a cavallo e questo bel completo! Mi sa che l'ha disegnato proprio lei! E poi ha i capelli raccolti con una coda da parte, così non le danno fastidio quando va a cavallo! L'hai disegnato tu il completo? Sì! Vi piace? Non è troppo formale con la cravatta, la camicia? Ho qualche dubbio! Ma no, per niente Michelle! I nostri amici hanno voglia di conoscere il tuo cavallo! Eccolo qui! Che meraviglia! Sapete come si chiama? Non l'avete sentito nella serie tv! Prestate attenzione perché alla fine del video vi sveleremo il suo nome! Il suo nome è bellissimo e ha un significato proprio speciale! Vi ricordate? Se l'avete visto nei cartoni animati scrivetelo nei commenti! Se no aspettate la fine del video! Beh, questo cavallo potrebbe essere ancora più bello grazie all'aiuto di Michelle! Michelle è un'esperta della moda, anche per i cavalli! E chi l'ha detto che non si può essere creativi anche con i propri animali? In questo cassetto ci sono i ferri di cavallo! Sono come le scarpe del cavallo! Invece di portarne due, ne ha quattro, uno su ogni zampa! Ahahahah! Pronto! Dobbiamo solo mettergli le redini e le briglie! Eccoli qui! Michelle, hai voglia di fare un giro? Certo! Ho proprio voglia di montare su... No, no, non dire il suo nome, è una sorpresa per i nostri amici! Ah, ok! Vi do solo un indizio, il mio cavallo profuma di fiori! Bell'indizio! Michelle, mentre fai la passeggiata ci fai vedere il club! Questa è la stalla dove dorme il mio cavallo, ma non è ancora ora! Adesso dobbiamo prenderci cura di lui! Ecco la doccia! Hai voglia di fare una bella doccia fresca? Wow! Esce l'acqua! Funziona grazie a questo meccanismo! Bisogna mettere l'acqua con il secchio e muovere la leva! Et voilà! Il mio cavallo adora fare il bagno! Io intanto lo lavo e lo pettino! Che bello! sono certa che così sarà ancora più bello! Per prima cosa lo asciughiamo con il phon! E poi lo pettiniamo con la spazzola! E poi andiamo qui dove c'è il comò! Guarda com'è vanitoso! Si mette in posa! E poi ci sono tutte le sue cose per farlo bello! Profumi, creme, dobbiamo prepararci per fare le foto! Un cavallo che fa il modello! Che strano! E beh, nell'istituto Pini è tutto un altro mondo! Gira tutto intorno alla moda, all'arte, alla creatività! Guarda, questi sono tutti i suoi premi! Cavallo alla moda! Ah sì! Io pensavo che fossero i premi delle corse! Sì sì, anche delle corse! I cavalli del Pini partecipano ai concorsi di moda e alle corse con ostacoli! Guarda, adesso vi fa vedere come salta! Wow, che salto! C'era da immaginarsi che avesse così tanti premi! Sì, li piace un sacco fare gli allenamenti! Ho bisogno del vostro aiuto! Devo fare una nuova acconciatura al mio amico! Oh oh, mi stava scappando il nome! Ho pensato di fargli una coda nella criniera e nella coda, così risalta il colore! È rosa fucsia come i tuoi capelli! Sì, è per questo che siamo amici! Beh, che ve ne pare? È bellissimo! E poi potete lasciargli la criniera alla coda sciolte! Un po' casual! Non so, che ne dite? Non so, meglio parlarne con il cuscino! È già tardi, è ora di dormire! Dai, andiamo alla stalla! Hai fame? Tieni, mangia qualcosa prima di dormire! Michelle, prima di andar via, vuoi dire ai nostri amici come si chiama il tuo cavallo e perché? Certo! Ho visto che qualcuno l'ha già scritto nei commenti! Come vi ho detto prima, il mio cavallo profuma di fiori perché tutte le mattine gioca in mezzo ai fiori e per questo l'ho chiamato Blossom! È un nome bellissimo! Sì, perché Blossom significa fiore in inglese! È proprio originale! È già tardi, Michelle ha messo il suo cavallo nella stalla! Bisogna solo chiudere il club ippico e riaprirlo un altro giorno! Guarda che tenero il mio cavallo! Si affaccia alla finestra per salutarmi! Ciao Blossom! Ci vediamo domani, così decidiamo la nuova pettinatura per il book fotografico! Ciao Michelle! Ciao Blossom! Spero di vedervi presto! E voi amici, potete aiutare Michelle a decidere l'acconciatura più bella per Blossom? Treccia o criniera sciolta? Scrivetelo nei commenti e mettete un like se volete vedere altri video del Pini nel canale Mondo Pini Pond! Ciao ciao amici!